ciao ragazze ciao a tutti e tutti nuovo video haul finalmente come vedete dalla miniatura e ho fatto un bellissimo video haul e non so cosa ne uscirà fuori oddio vabbè niente allora questo video haul consiste in abbigliamento e cosmetici quindi siamo a posto poi in un prossimo video farò anche il video vlog andando alla maddalena si perché oggi dovete sapere che sono stata la maddalena a prendere un appuntamento medico e l'appuntamento medico non so quando me lo daranno però nel frattempo cerco di fare di prenotare comunque nulla se al fatto che da quando la gastroscopia quello che quindi mi diranno quando sarà perché non ho idea e nel frattempo cercavo cercavo una benedetta e strabenedetissima tuta non l'ho trovata quindi uscendo fuori a maddalena l'ho trovata nella a palau appunto a palau ha trovato la tuta e da non so se mi dice vabbè dall'erba voglio trovata è un negozio che si chiama l'erba voglio non so se lo voi conoscete ma di che se qualcuno mi vede di palau su youtube credo che sappia che l'erba voglia inutile comunque niente non te ne lo dico perché tanto credo sappiate nulla allora cominciamo da prima dall'erba voglio poi ovviamente da douglas perché ho preso prima dall'erba voglio e poi da douglas ho fatto due tappe in una prima la tappa da douglas poi dall'erba voglio quando sono scesa a palau quindi andiamo subito allora questa è l'erba voglio non so cosa si capirà mai mi sta piacendo un casino non la metterò di certo per andare in palestra ma per andare a ballare vediamo un po allora buona visione se il video vi piace aspettate un attimo che faccio un po di allora se il video vi piace mettete un like supporto un commento e attivate la campanelluccia per non prendere i prossimi video ciao a dopo allora rieccomi dunque a un di erba voglio e di douglas douglas non lo vedete per non piacere dopo ma è douglas allora dunque erba voglio c'è questa maglia qui di della tuta che non so di che marchio sia mimi mimi mua firenze non so se avete mai visto questa 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 marca mimi mua vedete si vedo qualcosa sì spero di sì mimi mua firenze eccola qua l'ho pagata intorno allora questo costava 79 e il pantalone pare 60 qualcosa del genere ricordo comunque tutto ho pagato 100 ce l'ha fatta 100 questa se non mi ricordo male boh si infatti ok comunque questa è la maglia quali strassini quali strass sotto vedete qua qua sopra ecco qua questo qua e niente tutto questo poi il pantalone un attimo solo il il pantalone e come la maglia ovvero agli strass ho metto bene la busta che questo costava allora 69 non mi ricordavo bene 69 di mimi firenze vedete ecco qua e appunto ce l'ha fatta 100 euro voi direte impossibile e invece mi sa che ce l'ha fatta 100 euro comunque non male alle tasche con gli strass i medici strass vedete bellissimi pantaloni molto lungo non faccio video tra e no perché tanto me lo vedrete indossate uno secondo video outfit come suol dire non so quando farò outfit ma ve lo farò ve lo farò quando sarà non ne ho idea non so neanche se devo farci però non so mai me lo provo e poi vabbè non me lo provo adesso perché se ragazzo mi devo fare dolce quindi non è il caso o se no mi faccio una foto non so vediamo non ne ho idea ciao un attimo ok adesso passiamo a douglas che c'è tante cose belle e succulente non vi faccio vedere altre cose se no non finiamo più allora da douglas eccoci qua ho speso speso la modica cifra di 33 euro e 90 centesimi questo qua si allora non ci credete questo qua è lo scontrino lo scontrino di douglas se non credete non so cosa dirvi comunque questo è il mio bottino non ho speso molto ma appena ho preso questa spuma di essenzial della douglas e mi sta piacendo davvero tanto sta piacendo per modo di dire perché l'ho provata allora ci tengo a fare un piccolo disclaimer tra virgolette l'ho acquistata tempo fa ovvero in passato però mi ci sono trovata per lo stesso ed era della cleanians ma era lo stesso marchio della di cleanians anzi questo è della douglas ma fa lo stesso perché almeno fa lo stesso lavoro questa non credo che la dovete agitare no vabbè comunque è sempre per risciacquare trucco grosso del trucco poi qua c'è dermatologicamente testato sì questo è un che cavolo è a un tonico un'acqua bifasica per rimuovere il trucco degli occhi e non solo anche del viso ma io ovviamente faccio prima uno poi l'altro prima anzi prima da agitare l'acqua agitare tipo così e poi la la mettete su un dischetto struccante e aiutate il dischetto a rimuovere per piano piano aspettate qualche secondo per rimuovere il trucco dagli occhi e nulla e poi ovviamente farete farò la mia skin che erano si tratta per me poi come seconda cosa andiamo veloce che miglia ho preso uno spray per fissare lo smalto nei polis fixi io non faccio sì permanente perché mi ha stufato mi piacerebbe farlo ragazzo ma dopo un po lo potrei sì lo potrei fare una volta ogni tanto ma questo mi aiuta a fissare per il trucco sì trucco ciao il lo smalto questo vabbè sempre il trucco però è trucco per le unghie ovviamente non guardate come ce l'ho adesso perché fanno veramente orrore ma è la verità poi qua ci sono tanti campioncini che vi faccio vedere così per non stare a fare troppi giri di fronzoli ecco qua tanti campioncini tra quale uno che l'ho rimesso già a posto così appena posto lo utilizzo e questo qua della lancome aspettate che questi li metto di qui ok e questo ed è un contorno occhi della lancome vedete si vede qualcosa sì che dovrà trova trovo allora dovrò provarlo a farvi sapere come mi ci sto trovando advanced genifique concentrato ho concentrato sì allora non ci si è scritto non vi è scritto altro niente c'è scritto solamente con contorno ovviamente lo proverò nella skin che adesso a voi è appunto questo della lancome vedete si che si capisce ecco qua niente ce n'è sette mele di prodotto ecco qua sette mele il prodotto e nulla basta non c'è altro niente a dirvi se non che ho preso campioncini rimanisco il prezzo 33 euro 90 quindi niente allora c'erano una specie di ops mi stavo per far cadere allora il telefono c'erano sconto perché ho preso con uno sconto si vabbè mi hanno scontato ma c'era uno scontro fiscale di che cosa per andare da yamamai sempre di per tulas per conto di tulas a farsi vabbè per fare lo sconto di fino al 7 apri 2024 promozione valida per tutta la collezione scusate il codice utilizzabile vabbè questo con una volta accumulabile con con un'altra promozione in corso codice sconto se volete comprarvi qualche pezzo di yamamai e vabbè se vi interessa vedete un po voi no vabbè scritto un po male ma a su voi vi farò tutto lo screenshot o lo faccio io non lo so vedete fate voi come volete ecco qua niente insomma tutto sommato il fatto che questo c'è un codice sconto se volete comprarvi qualche pezzo di yamamai qualche roba intima di yamamai o costume che sia e con questo presentate questo scontrino della douglas e vi acquistate col codice sconto sempre di questo o con voi o per me o per la mia amica o anche con la mia cucina non lo so adesso si vedrà o se non nulla va bene lo stesso comunque per farvi capire a voi che con questo è scontabile anche col codice sconto appunto un cosa di yamamai un prodotto cioè un indumento di yamamai basta appunto così ho finito la mia papardella allucinante però vabbè allora se siete arrivati a questo punto il video non vi rimane che mettere un bel like di supporto un commento ovviamente nella sezione garbata e ciao a presto un bacio